Ecco, ci troviamo nella struttura polivalente, detto comunemente il pallone del nuovo. Ecco, dopo l'esibizione dei baby atleti della scuola calcio, del Virtus Casseffrentano, contro, si sono esibiti con i loro coetani della Valle Aventino, la Virtus Casseffrentano, con la fattiva collaborazione dei genitori dei nostri baby atleti, abbiamo organizzato un terzo tempo, un terzo tempo di saluti e ristoro, ci sono le mamme che stanno preparando, ecco, una bella tavola imbandita, con tanti prodotti, è il terzo tempo organizzato dalla Virtus Casseffrentano. I ragazzini subito, appena vedono un pallone, subito a giocare al pallone. Ecco il nostro mister Gabriele. Ehi, andate a fare quello al giorno, ecco. Ecco. Facciamo il cerchio, facciamo il cerchio. Facciamo il cerchio grande, dai, dai, dai. Si può, si può. E i ragazzini della Valle Aventino? Facciamo il cerchio. Un cerchio, un giro tonto. Dai, dai, dai. Ecco il genitore. Ma poi arriveranno anche i ragazzini della Valle Aventino, il terzo tempo, in onore degli ospiti. i ragazzini della Valle Aventino. E quindi, agganciatevi, so! Oh! 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 Oh, oh! 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 i genitori tutti qua stanno mancano i ragazzini della valle Aventino